Crisi e usura, un legame perverso sempre più stretto. L'allarme lo lancia la GDF. Nei primi sette mesi del 2013 le Fiamme Gialle hanno condotto 266 operazioni sequestrando patrimoni di provenienza illecita per 167 milioni di euro, il 1500% in più rispetto al 2012. 248 gli usurai denunciati, di cui 49 arrestati, il 200% in più rispetto all'anno scorso. Le indagini di contrasto all'usura cresciute del 40% rispetto al 2012 evidenziano inoltre una evoluzione associativa del fenomeno criminale. In molti casi gli usurai danno vita a vere e proprie società finanziarie illecite che prestano denaro a tassi impossibili. Per far fronte alla crisi, evidenzia ancora la GDF, si impegnano i gioielli di famiglia. A guadagnarci naturalmente sono i negozi che comprano oro promettendo il prezzo più alto, negozi che spuntano come funghi e che spesso fanno da copertura a traffici illeciti. Oltre 179 i chili di oro e argento sequestrati dalla Guardia di Finanza dall'inizio dell'anno, l'86% in più rispetto allo stesso periodo del 2012. 86 i responsabili di traffico di metalli preziosi e ricettazione denunciati nelle numerose operazioni condotte attraverso indagini sul territorio, ispezioni antiriciclaggio agli operatori del settore e controlli ai valichi di frontiera. Cifre che continuano a salire, segnale evidente della crisi che strozza il paese sempre di più. A farne le spese sono soprattutto le fasce più disagiate della popolazione, disposte a vendere tutto ciò che hanno di prezioso pur di soddisfare il bisogno immediato di liquidità.